In isolamento in una cella dell'istituto femminile di Piazza Lanza a Catania, controllata a vista 24 ore al giorno per evitare che possa commettere gesti estremi in attesa dell'interrogatorio con il giudice. È passata così la prima notte in carcere per Martina Patti, la madre 23enne, che ha confessato di aver ucciso la figlia Elena di 5 anni e di averne nascosto il corpo in campagna vicino alla sua casa a Masca Lucia. Un omicidio che la donna ha confessato ma dopo aver simulato il rapimento di Elena da parte di un commando, un delitto al momento senza un perché, tranne l'ipotesi investigativa della gelosia di Martina Patti per l'attuale compagna dell'ex convivente e per l'affetto che Elena mostrava nei confronti di quest'ultima. Ha agito come se non fosse lei, spiega l'avvocato difensore, come se avesse avuto una forza sovrannaturale alla quale non ha potuto resistere e non c'è stato un pensiero che l'abbia potuta ferrare. Per i carabinieri avrebbe premeditato l'omicidio della bambina e durante l'interrogatorio sarebbe stata impassibile tranne cedere dopo le contestazioni che le sono state mosse. Da chiarire il luogo del delitto e l'eventuale responsabilità di altre persone nella commissione dell'omicidio o nell'occultamento del cadavere. Masca Lucia, paese dell'Etna, è a lutto e ha sospeso i festeggiamenti esterni per il patrono San Vito.